Mi serve una cosa, tipo qualcosa che possa... Tipo questa? Esatto! Sì! Ci siamo! Aspetta! No, 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 no! Borotalco! Ah, sì, sì! Sai, la cosa più importante in un colpo è essere sempre consapevoli dei potenziali pericoli. Papi! Tirami su! Papi! Come l'è? No! Junior! Junior, torna qui! E adesso qual è il tuo piano? Lasciami lavorare! Non toccare niente! No, 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 no! No, 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 no! Bravissimo, Junior! Ottima mossa! Oh, ti sta divertendo! Sì, anche troppo!